salve a tutti voi con questo nuovo video inizieremo a comprendere il concetto della caloria e quando fu introdotto e quali furono gli eventi distorici che portarono la caloria a entrare nel fare quotidiano se sei uno sportivo se ti sei sottoposto a una dieta qualsiasi app che trovi sui telefonini sugli smartphone eccetera riguardante il benessere fisico parla di chilocalorie ma allora chiediamoci ma cos'è veramente una chilocalorie ritengo a questo punto dunque doverosa un'introduzione riguarda i concetti della caloria e chi per la prima volta introdusse il termine anche se poi la paternità viene associata a un altro studioso la parola caloria come unità di calore sembra essere stata coniata tra il 1787 e il 1824 la vocière studiò i calori specifici dell'acqua e di vari materiali e condusse alcuno dei primi esperimenti di calorimetria diretta e indiretta chiamò il calorimetro calorimetre nel 1789 ma anche se la la vocière fece questi studi non utilizzò mai il termine di caloria come unità di misura i documenti di la vocière fanno riferimento al caloric calorico e al chaleur calore ma non alla caloria dunque comunità di misura a quel tempo calorico era considerato come una sostanza piuttosto che un'unità di calore la prima definizione pubblicata che parla di caloria è attribuibile a nicolas clementi nel 1825 che la definiva come la quantità di calore necessaria in alzare di un grado centigrado la temperatura di un chilogrammo d'acqua da zero gradi centigradi a un grado centigrado si tratta quindi della prima vera definizione di questo termine e dunque della prima definizione come unità di misura poi esiste la piccola caloria e la grande caloria che viene indicata con una c piccola o una c grande e poi vedremo diventa chilocalorie quando abbiamo a che fare coi concetti di biologia e jean prescott joule calcolò nel 1850 in base a un esperimento chiamato il mulinello di joule che in tutte le scuole viene dimostrato e fatto vedere l'equivalente meccanico del calore necessario a far innalzare di un grado fahrenheit ricordo che un grado centigrado corrisponde a 1,8 gradi fahrenheit la temperatura di una libra ricordo che una libra corrisponde a 450 grammi di acqua dunque far innalzare una libra di acqua a 55 60 gradi fahrenheit in media circa in media circa 15 gradi centigradi ottenendo un valore di 772,692 equivalenti a 416 joule caloria con un errore dello 0,6 per cento circa sul valore moderno dunque molto vicino e reale alle definizioni attuali non mi dilungherò su questo aspetto soltanto per far capire che in questo concetto si racchiude anche un concetto di lavoro e dunque di forza lavoro ecco l'importanza che vedremo nella storia che imposi il termine caloria sul mercato globale dunque in biologia e in nutrizione il termine chilocaloria abbreviato con k cal o grande calorie dal simbolo cal con la c maiuscola come appena detto è l'energia necessaria per innalzare di un grado centigrado la temperatura di un chilogrammo di acqua distillata a pressione di un'atmosfera e corrisponde quindi a mille piccole calorie è usata per indicare l'apporto energetico medio di una certa quantità specifica di alimento ad esempio un grammo 100 grammi 500 grammi corrisponde a tot calorie e così via ma è proprio così sebbene il valore energetico di un alimento e il consumo di energia nell'attività fisica vengono annotati in calorie o chilocalorie il sistema internazionale di unità misura adotta il giaolo e questo è un altro concetto importante dunque ritorniamo sempre sul concetto di forza lavoro teniamo a parte queste 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 definizioni per capire poi il resto della storia un giaolo è il lavoro svolto esercitando la forza di un newton per una distanza di un metro perciò la stessa quantità può essere riferita come newton metro qui entriamo in concetti ancora più complessi ma mi fermo qui sottolinea il concetto di forza lavoro dunque questo ci fa capire che il nostro corpo viene paragonato a una stufa c'è un organo biologico paragonato a una struttura meccanica la precisione è una macchina a vapore e dunque qualsiasi attività viene paragonata così anche l'attività mentale viene paragonata in chilocalorie ci si dimentica però del ritmo della frequenza delle variazioni di scelta dell'organismo degli alimenti di quanto alimento viene degradato e quanto no di quanto viene va nel pull di elementi base come glucosio di quanto è accumulato e quanto no dunque sono tutte indicazioni approssimative e dunque questo spiega anche perché tante diete basate sul concetto di chilocalorie falliscono dunque se io tolgo gli alimenti a una persona quella persona dimagrisce questa è storia questo si sa non c'è bisogno di inventare niente lo storico nick culater scrive che per ben oltre un secolo la caloria è stato uno strumento per la comprensione pubblica non solo nel della nutrizione ma anche di regni come le relazioni di lavoro tra le varie potenze internazionali e la politica estera per i funzionari governativi l'utilità della caloria è stata subito chiara culater scriveva che la penne press introdusse per la prima volta al gran pubblico statunitense il concetto di calorie nel marzo del 1896 quando il professore del westland university weber attuata sigillò uno studente in una stanza e studiò attraverso una camera di compensazione con porzioni distinte con precisione di una bistecca di manzo del latte e di patate cioè fu nutrito con questi alimenti e si vedeva in base alle perdite quanto consumo faceva ma era un artificio e noi non mangiamo solo la bistecca di manzo il latte le patate però è un esperimento monitorò anche i periodi di esercizio e di sforzo fisico dunque è mentale del soggetto per valutare appunto il consumo calorico lo studente era all'interno di un calorimetro dunque un dispositivo precedentemente utilizzato per misurare l'energia combustiva di esplosivi e motori come scriveva lo stesso culater questo storico registrava l'assunzione di cibo e la produzione di lavoro in termini di energia termica al water concluse che le leggi matematiche governavano l'atto ordinario del mangiare per i funzionari governativi dunque l'utilità della caloria fu immediatamente chiara poteva aiutare alla gestione efficiente nella nutrizione nelle prigioni nelle scuole degli eserciti delle stesse famiglie essendendo gli studi sul tempo e sul movimento di frederick taylor il conteggio delle calorie poteva determinare i modi più efficienti di nutrire la forza lavoro industriale un'idea a cui i lavoratori e loro sindacati creavano delle forti resistenze riconoscendola come un modo per giustificare i bassi salari perché se non mangiamo in un certo modo non produceva in quel modo automaticamente io ti pago meno cioè il concetto è molto semplice no la caloria dunque permetteva anche agli scienziati di confrontare le diete di diverse nazioni e dunque si parlava della dieta giapponese della dieta cinese della dieta europea e così via i giornalisti erano entusiasti di queste possibilità derivate dalla nutrizione che si poteva quantificare ecco che nasce il mito del della dieta della dieta a basso contenuto di calorie e quello viene portato fino a oggi e dunque la pubblicità cioè mass media potevano offrire per cambiare le abitudini alimentari degli asiatici in particolare perché all'epoca c'era la grossa disputa tra cina c'è tuttora comunque tra cina e occidente tra cina russia e occidente potevano dire noi mangiamo in un certo modo tot chilocalorie vuoi così dunque noi possiamo cambiare la vostra dieta perché mangiate male cosa che non è vero come tutti sappiamo oggi come chiedeva la review of reviews cosa possiamo aspettarci sia di vigore fisico che morale da comunità che vivono sul piano fisico di milioni di persone in oriente naturalmente dal punto di vista odierno usare la caloria come unità di misura del valore alimentare è chiaramente forviante ecco perché non si può utilizzare questo concetto nell'alimentazione i programmi di at water classificavano il grano la carne e i latticini come importante risorse nazionali mentre la frutta le verdure e a foglie in particolare e il pesce registravano un valore nutrizionale molto scarso che potevano a malapena essere classificate come cibo così scriveva lo stesso autore e fu sottolineato anche da vari storici questo argomento dunque ecco come sul mercato si introdusse un certo modo anche di vedere l'alimentazione i pubblicitari sfruttarono l'idea delle calorie intercambiabili infatti in una pubblicità del 1903 che si diceva ai potenziali consumatori che un bicchiere di birra schweets rappresentava 137 calorie appena un po' meno del latte il che lo rendeva carburante sufficiente a fornire abbondante energia alle macchine umane ecco anche l'esaltazione dell'utilizzo della birra nell'alimentazione quotidiana fu tutta una manipolazione a livello globale che iniziò dagli stati uniti per poi essere esportata in tutto il mondo nonostante all'epoca le lamentele di medici di studiosi ricercatori che spieghavano che la nutrizione non si può limitare nel semplice concetto della chilocaloria la chilocaloria prese il sopravvento in tutto il mondo quello che noi possiamo soltanto considerare con questo termine di chilocaloria è un apporto energetico medio sulla base dei componenti che sono espressi sull'etichetta delle confezioni dunque un apporto energetico medio che cambia dall'attività fisica dal sesso del soggetto dall'età del soggetto e così via e anche se esistono tabelle nutrizionali che rapportano questi dati a quello non tengono presente del ritmo non tengono presente delle frequenze non tengono presente il sistema immunitario non tengono presente i tanti dati che l'organismo utilizza per discegliere quali alimenti in quel momento gli servono e quali no e poi sottovaluto molto l'aspetto degli oligolamenti e delle vitamine che sono essenziali per un adeguato metabolismo energetico nel 1920 il governatore progressista del michigan Charles Osborne propose addirittura che il commercio internazionale usasse la caloria come moneta universale commerciale considerandola una misura di valore reale a differenza del valore immaginario dei metalli per alcuni europei l'ossessione americana per le calorie rappresentava una triste tendenza alla quantificazione dell'esperienza umana comunque furono segnalate cioè che non si può paragonare l'uomo a una macchina già all'epoca e tuttora viene utilizzata questo tipo di misura il romanziere francese George Duhamel scrisse di aver intravisto il mondo del futuro in un ospite americano che lo esortava a ordinare della farina di vena piuttosto che delle patate perché le avrebbe dato 200 calorie in più dunque l'ossessione per le calorie si placò leggermente intorno agli anni 20 quando gli scienziati informavano il pubblico del valore delle vitamine dei sali minerali degli amminoacidi e di altri aspetti che la scienza nel frattempo faceva emergere ma anche se queste informazioni furono date negli anni 20 tuttora si pensa in questo modo infatti come vediamo sulle nostre applicazioni nutrizionali che troviamo su tutti i smartphone eccetera su computer quello che ci programmi di gestione di una dieta eccetera l'idea di quantificare il valore del cibo rimane tuttora persistente grazie a tutti grazie a tutti